Play Contest, una produzione di Homepage e Tag Room Factory. In collaborazione con Udinese TV, Radio Latte e Miele, Messaggero Veneto e con il contributo della regione Friuli Venezia Giulia. Ciao, sono Rebecca, e ti accompagnerò in questo viaggio musicale. In questa prima puntata andremo ad ascoltare quattro delle quattordici band scelte dalla giuria tecnica che parteciperanno alle quattro selezioni per accedere alla finale del 16 agosto, live, all'Ignano Pineta. Andiamo ad ascoltare la prima band in gara. Ciao, noi siamo i Devils and Subways, io sono a medio settimo e faccio la voce e il basso. Io sono Claudio, chitarra. Io sono Andrea, chitarra. Giacomo, batteria. Ok, noi siamo nati nel 2014, avevamo suonato assieme per sei anni, prima facciamo Pop Punk. Tornati da un viaggio abbiamo deciso di fare le cose un po' più seriamente, ora facciamo Alternative Rock. Abbiamo fatto un paio di concorsi, abbiamo vinto il concorso a Cervignano, un concorso a Maiano. Ora siamo qua a provare il contest con Homepage di Play. Da questo contest ci stiamo aspettando praticamente... Modesto! Il posto a secca. Da questo contest ci aspettiamo essenzialmente un'ottima esperienza con gente preparata per vedere a che livello siamo e è sempre bello farci giudicare, vedere a che punto siamo arrivati e come possiamo migliorare per andare ancora più avanti. Ok, suoniamo un brano che si intitola Atmosphia, è stato composto da noi in sala prove al buio. Ciao! Ciao a tutti! 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 You got so far, and now you're crazy You are gonna make it When you're gonna say to me that life fits hard You tell me how you got so far And now you're crazy You are gonna make it And when you're gonna say to me that life fits hard You tell me how you got so far And now you're crazy You are gonna make it When you're gonna say to me that life fits hard And now you're crazy You are gonna make it And now you're crazy And now you're crazy I can add just a crazy Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday It's been a pleasure Happy birthday Ciao Ciao Andiamo a scoprire come funziona Play Contest Chi si poteva iscrivere a Play Contest? Partecipano a Play Contest, gruppi che scrivono musica propria, residenti in Friuli Venezia Giulia e di età media compresa fra i 18 e i 35 anni Ora ritorniamo alla musica Ecco a voi la seconda band in gara in questa prima puntata Ciao a tutti siamo in Great Escapes Gabriele Pietro Andrea Francesco Siamo un gruppo abbastanza giovane Abbiamo addirittura un maggiorenne E siamo nati un anno fa Quindi siamo abbastanza di recente formazione Abbiamo avuto qualche esperienza nella zona Friuli Qualche piccolo contest, qualche live nei bar Come al solito fare Adesso stiamo cercando di registrare un EP con dei pezzi nostri E poi chissà Dal Play Contest ci aspettiamo innanzitutto Beh, la giornata di oggi è sicuramente già una grandissima occasione E poi, insomma, staremo a vedere Il titolo del brano è Other Side E gli autori, beh, scontato dire che siamo tutti e quattro Del testo mi sono preso carico io e starete a sentire Ciao 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 Grazie a tutti. 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 Sever, Daniele, Alessio, Emanuele, Fabio. e ovviamente era un po' complicato dire una cosa tipo Ciao, noi siamo in Sever, veniamo dalla zona di Udine suoniamo assieme dal 2011-2012, qualcosa del genere e Daniele al basso, il Tux alla voce, Emil alla batteria, Fabio alla chitarra e poi abbiamo una new entry qua vicino a noi che è l'elemento più caloroso del gruppo Abbiamo suonato in vari contest, in vari festival quest'anno abbiamo partecipato al Toon Festival a Pordenone parteciperemo a breve al Rock Camp di Trieste abbiamo suonato Spalla negli anni passati a Linea 77, Plan de Fuga Prime Circle e Benchini che è il bassista ufficiale degli Incubus Ci aspettiamo un bellissimo contest appunto e soprattutto ci piace sempre conoscere nuove band, nuove realtà e cercare di metterci a confronto anche se l'età un pochettino avanza per tutti tranne per Emi che è il più giovane o c'è anche lui effettivamente che solo che con la barba praticamente siamo quasi coetani e niente di più allora il titolo del brano è Next Floor gli autori sono i sever tutti e quattro più il quinto ciao 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 Grazie a tutti. 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 Divertiamoci tutti quanti assieme, sia musicistico e pubblico. Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti. avrò... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dimenticare questo triste... Grazie a tutti. e... Grazie a tutti.